Ok, chi si ricorda del video vecchissimissimissimissimissimissimo che ho fatto tantissimissimissimissimo tempo fa sul canale chiaramente su Centro 4, neanche io però diciamo che negli ultimi tempi sono diventato abbastanza nostalgico dei miei stessi video non sapevo che cazzo fare della mia esistenza allora mi sono detto riesumiamo cose antiche per il gusto di farlo e questo è quello che è uscito fuori c'è da dire che ai tempi lo provai come free to play o meglio free weekend e poi siccome mi piacque troppo lo comprai ai saldi sono tipo andato stra avanti e quindi continueremo da dove ho lasciato io e andremo a cazzo di cane lo stesso si questa volevo dire sono io qui possiamo notare un fantastico fenomeno di disgregazione di palazzi minchia potrei fare invidia a Piero Angela e suo figlio ma già che devo scegliere gli incarichi e allora incontriamo il nostro amico Johnny ah non capisco niente non capisco niente fammi il favore di crepare ciao Johnny ciao tutto bene? ah io eeeh vabbè vabbè io lascio Johnny un attimo qui da solo perché altrimenti non la finiamo più sta missione non ci voglio credere mai aiuto 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 no troia merda merda ma perchè sono idiota non so non so niente cosa ho fatto ok e questo come la sistema chi è che ha avuto la brillante idea di mettere del platforming in questi giochi e voilà anche se evitasse di andarvene via tipo dove dove stiamo andando è fantastico contro l'albero dove 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 devo andare ah ecco fantastico ho capito giorno fuori dai piedi chi altro c'è adesso salve dove va? dove va? ah ok cosa sta succedendo? si sono ricco ho guadagnato 6300 rombi e niente bella gente questo era sensoro 4 però quello vero fatto bene era anche quello di prima quello vero fatto bene però diciamo un pelino più avanti nel gioco credo verso la fine in realtà non l'ho ancora finito perchè ho iniziato a giocare a tante altre cose e l'ho un po' mollato però è stradivertente come la merda non lo ricordavo così divertente seriamente e sicuramente sarà di nuovo in saldo questa estate visto che steam fa gli scontini quelli belli belli e se lo dovesse trovare in saldo io vi consiglio di pigliarlo perchè è divertente come può salve come vanno le texture? tutto bene? bene arrivederci arrivederci